sei? dai andiamo! buono che l'hai guardata eh! però sei andato giù un po' presto ma va bene eh! bravo! wow! tanta roba! così eh! così dai! spingele forte! guardala! bravo! bravo Leo! fa niente! fa niente! dai sui piedi! fa niente! va bene! va benissimo! va benissimo! va benissimo! va benissimo! va benissimo! non ti sconcentrare! fa niente! bravo! 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 bravo Leo! venuta dai! bravissimo! così eh! con cattiveria bisogna andare sui palloni! bravo! tutta la porta! bravo! mamma che cagata! sei? dai dai! tenuta! è lì! bravo! 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 buono! meno male che ogni tanto ne sbaglio qualcuna! se no veramente non finiamo più! buono! dai che ancora lì! va bene va bene Leo! questa è andata a fil di pallo eh! non ti girare indietro ma attaccala forte come prima eh! dai le ultime tre! mamma mia! te le rifaccio una! dai! se no! rompi le balle! è difficile anche da calciare questa qua piccola eh! eh sì! oh bene! meno male! me l'ha solo levata dalle balle! sei? bravo! così che bisogna fare! occhi sul pallone di andare prima eh! e poi in partita le fate queste cagate qua di andare prima! va bene! bravo! dai! dammene una! dammene una che la faccio se no piange! e rompe le palle se no! dai! questa è quella che ti ho tirato fuori eh! ci siamo a posto eh! oh! bene! bravo! bravo!